90, 75, 75, 34, 62, 43, 1, 25, 39, 33, 63, 63, 69, 19, 49, 7, 51, 81, 81, 81, 82, 63, 63, c'è c'è 51 c'è 34 34 c'è 1 ok non c'è qualcosa no non c'è niente ma che è davvero si può essere la c'è qui bimba 58 26 61 e 28 16 54 67 67 74 72 36 84 84 73 18 58 52 54 35 35 38 14 76 46 46 45 45 15 15 60 29 29 29 50 50 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 41 40 41 42 oh già 47 sono città 40 riesce l'indicolo 81 3 3 87 3 65 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 37 37 37 37 37 37 38 40 40 40 38 38 38 40 41 42 42 42 41 41 42 41 42 42 42 42 42 43 43 44